I vecchi cassonetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti prima dell'era dei più piccoli mastelli carrellati affidati ai vari condomini della città sono stati posizionati in un terreno che costeggia la via Roccist. Era una soluzione momentanea, così come spiega l'assessore Marcello Frangiamone, anche in vista di un futuro progetto per l'area. In realtà la proprietà dei beni è della Ato, che li aveva dati in concessione, incomodato, alle aziende che li sono susseguite sul territorio comunale di Caltanissetta, che eseguivano la raccolta dei rifiuti. Quando l'ultima azienda che utilizzava questi cassonetti ha dismesso l'attività e quindi è venuta la Dasti, i cassonetti sono stati messi lì da parte per essere poi successivamente ceduti mediante una vendita, una manifestazione di interesse. Noi siamo abbastanza vigili su questa cosa, ho chiesto personalmente al commissario liquidatore del lato di accelerare le procedure per la cessione di questi oggetti, di questi cassonetti, anche perché sull'area abbiamo delle intenzioni importanti. Recentemente abbiamo approvato una delibera per utilizzare quest'area, che voglio ricordare ci è stata concessa dallo Stato tra i beni confiscati dalla mafia e lo scopo del Comune è quello di realizzare un parcheggio plurifunzionale, che può servire appunto come parcheggio auto, pullman, o anche per attività, manifestazioni sportive, manifestazioni anche di altro genere. Il progetto è in corso di relazione, la volontà dell'amministrazione è quella di utilizzare le risorse del PNRR che consentono appunto la realizzazione di questi spazi per le città. Una volta completato il progetto sarà approvato dall'Aggiunta e poi appunto sarà immesso tra i canali appunto dei finanziamenti del PNRR. Nella stessa delibera in cui viene indicata la nuova destinazione d'uso in progetto per il terreno di via Rochester si fa riferimento anche ad un'altra area, quella di Contrada Ramilia, per la quale si prevede un canile comunale.